Aiuti umanitari destinati alla popolazione greca, questo quanto organizzato a livello nazionale da Casa Pound e che interessa anche la sede locale di via Cesare Battisti 8 a Bolzano. Alla pari della raccolta alimentare che da anni il movimento porta avanti per i cittadini italiani e a cui si riferiscono le immagini che vi mostriamo e che mostrano una parte di quanto raccolto fino ad oggi, anche per il popolo greco Casa Pound chiama contribuire. In questo preciso momento, però, un preciso momento storico, la Grecia, il popolo greco sta affrontando una crisi economica senza precedenti e si trova stretto nella morsa della politica economica dell'Unione Europea, che di fatto è una dittatura per tutti i paesi, anche il nostro e abbiamo deciso di iniziare questa raccolta di aiuti per le famiglie greche che versano in grave difficoltà economica. Raccogliamo fondamentalmente alimenti a lunga conservazione, quindi dalla pasta, l'olio, la farina, lo zucchero, scatolame vario e arrivando fino a prodotti igienici e sanitari, quindi tutto ciò che può essere, non so, detersivi, bagnoschiuma, ma anche le forbici, ma anche farmaci generici, diciamo, senza l'obbligo di prescrizione medica. Andremo personalmente a consegnare questi aiuti, come abbiamo sempre fatto, con un convoglio di furgoni da tutta Italia, anche dalla città di Bolzano e andremo personalmente a consegnarli alle famiglie greche in difficoltà economica, questo grazie all'aiuto degli amici di Alba Dorata. Chi vuole sedonare può recarsi nel nostro spazio sociale, che è la Roccaforte in via Cesare Battisti 8, che è questa, e consegnare i propri aiuti. Gli orari d'apertura sono dal lunedì al venerdì, dalle ore 17 alle ore 20. Per tutte le altre informazioni è possibile scrivere all'indirizzo mail casapoundbolzano at yahoo.it o contattare il numero telefonico 3471928474.